Avevo il mondo per me, avevo luoghi del mondo dove mi salvavo, tutto mi porto io, il fascista Campietti ed il tedesco, l'orco. La storia ci insegna che per il prestigio occorre una chiara coscienza raziale. Il razzismo era un ingrediente costitutivo del fascismo proprio perché il fascismo era ideologia della sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Questo rischio non è del 1938, questo rischio è di oggi. Questi schifosi di ebrei bisogna che li distrugga tutti. Io mi accorsi di essere ebreo il giorno in cui mio padre fu licenziato dall'orchestra dell'Eyar e siamo diventati una famiglia miserabile. Noi abbiamo ricevuto qualcuno inviato dal senatore Agnelli il quale ci diceva signori Treves è il momento di andarvi via. È il regime, è il partito, è il pensiero, è il capo che dice agli italiani ora si pensa così. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. quel filo dell'inchiostro nero della firma del re sulle leggi razziali era un unico filo che man mano si era ingrossato era diventato una rotaia che portava ad Auschwitz. Grazie a tutti.